Buongiorno, sono Geometra Senetin Luca, responsabile per l'ufficio ricerca e sviluppo di Rason Wood Technology. Rason è un'azienda che realizza e mette in opera edifici in legno ad alte prestazioni energetiche. Il mio intervento di oggi mira a sensibilizzare il pubblico, in particolare i progettisti, su quelle che sono le caratteristiche di una casa in legno ad alte prestazioni energetiche, che sia duratura e funzionale nel tempo, non solo per questa generazione ma anche per le generazioni future. Infatti sembra o può sembrare agli occhi meno esperti che una casa in legno sia di facile realizzazione, in realtà è molto complicata, ci vogliono molte competenze, molta passione e soprattutto saper rispettare quello che è la materia prima, quindi il legno. Deve essere trattato con gli opportuni accorgimenti, quindi è giusto in questo tipo di interventi, in questo tipo di occasione, ribadire quei 3-4 concetti fondamentali che fanno una buona progettazione, una buona realizzazione e di conseguenza la soddisfazione totale da parte del cliente. I nostri obiettivi per il futuro sono quelli di sensibilizzare sempre di più le persone su questo tipo di tematiche, non solo sull'ambiente e sulla qualità del costruire, non solo su quello che è il risparmio energetico che ormai riempie un po' la bocca di tutti gli esperti e meno esperti e anche gli improvvisati e far capire quanto siano importanti questi argomenti non solo per il nostro presente attuale ma anche per quello che sarà il prossimo futuro. Quando tutti saranno consci delle potenzialità che il sistema costruttivo in legno ha e di quello che ci si può realizzare con le dovute attenzioni e le dovute perizia tecnica, allora si potrà anche fare un confronto su quello che è stato realizzato e che si potrà costruire in futuro. Grazie. 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 Grazie.